L'ex primo cittadino di Agropoli, Franco Alfieri, torna a parlare dopo le perquisizioni avvenute a casa e nel suo ufficio legale da parte della DIA nei giorni scorsi. Sono una persona per bene, dice Alfieri nel video, definendo Sciacalli, chi in questo momento parla di lui cantando vittoria per le sorti avverse. La giustizia farà il suo corso, come sempre, e la verità farà giustizia su tutto. Questo video non serve a chi mi conosce, mi conosce bene e che ha sofferto, forse più di me, perché sono abituato e ho scelto di fare politica e queste cose possono accadere. E non serve agli Sciacalli, a quelli che in questi momenti pensano di aver perso il terno all'otto, ma non l'hanno preso, non mi preoccupate. Parlo alle persone che non mi conoscono e debbono decidere il 26 di maggio se mettere o non mettere quella crocetta sul mio nome. Io sono una persona per bene e la giustizia farà il suo corso e come sempre la verità farà giustizia di tutto. E quindi uscirò anche da questa vicenda che viene da lontano. Una cosa che è uscita già sui giornali nel 2014, nel 2015, nel 2016, poi l'altro ieri, due giorni fa, la perquisizione a casa e nel mio studio legale. E' una cosa che sarebbe stata normale, non ci sarebbe stata questa gran cassa, in un periodo non elettorale, ma a dieci giorni delle elezioni, ovviamente diventa molto difficile e per me è stato un vendente sanguinante, ma io sono qua in piedi a continuare la campagna elettorale. E questa è la prova del mio carattere, anche da sindaco, e che i problemi che ascolto e che vi ho promesso di risolvere, troveranno questo carattere, troveranno un Franco Alfieri che non si abbatti rispetto a queste difficoltà.